Nei confronti. Come mi devo porre nei confronti degli insegnamenti dei maestri? Commento. A chi ama il loro insegnamento i maestri raccomandano. Rispondete a chi vi chiede. Come si servirà della vostra risposta chi vi ha posto la domanda non vi deve interessare. Potrà riderne o trovarla utile. Il seme comunque è gettato.